Allora siamo con il coach Toffoli, coach un ritorno a Roma dopo l'ultima parentesi del giocatore adesso sulla panchina di Alessano, una partita che poteva volgere al peggio qui per i padroni di casa una grossa prestazione della sua squadra, un muro difesa alla grande e un finale che non ha riso ai suoi colori Sì, è stata una bella partita, lunga, combattuta c'è da dire che in posto ho viste un po' le nostre pecche più che altro di ingenuità del resto questa è una squadra giovane, ci sono alcuni ragazzi giovani, ci sono giocatori che non hanno mai giocato ai due stranieri, mai giocato nel campionato italiano, quindi abbiamo un po' peccato in alcuni frangenti dovevamo essere un po' più spietati, non lo siamo stati, dovevamo crescere però sono contento della prestazione perché abbiamo giocato, abbiamo difeso ci è mancato quel qualcosetto in più per battere una grande squadra con giocatori importanti quindi se mi avessero detto che veniva a fare questa bella qua ci avrei firmato, è normale però ecco, questo ci fa capire la consapevolezza che possiamo ancora crescere crescere ancora tanto, migliorarci e se cresciamo diventiamo rognosi Bene, in bocca al lupo allora Grazie a tutti Grazie